Hey la people e bentornati dal coach Marra Innanzitutto volevo ringraziarvi per il video dello Whisper Challenge Dove siamo arrivati a più di mille views ragazzi Con il cuore, come dice Barbara Durso, grazie mille Oggi invece siamo qua con un nuovo video di Fortnite Con una team squadra tutta nuova Vabbè, tranne col solito Joe Lui ci sarà quasi sempre Siamo qua con Luca e Giovanni Andremo a fare una vittoria reale? Perderemo miseramente? Non lo so, scopritelo nel video Il bus della battaglia è pronto, partiamo Giovanni Ciao E Luca Ciao Siamo pronti ad andare a cercare la nostra terza vittoria reale sul canale Una fatta con i miei ex allievi del Belli Una fatta con il Fra e il Momo e il Joe E oggi siamo qui a cercare di farne una nuova Speriamo che tutto vada bene Siamo migliorati, ma non tanto Abbiamo fatto prima una partita di prova E ci hanno demoliti Ma ora crediamo in voi Stiamo registrando Crediamo nel potere dei miei iscritti E ce la faremo Nel frattempo io trovo solo legno Subito Scara epico così Proprio Ti vedo qua fuori A terra uno Sì, l'ho ammazzato Fate tutti Bravissimi Che ti ha sparato? Io no Joe Demolito Qua, qua, qua Ma era un bot Ma sei serio? Eh, secondo me sì Ma io ne senti tanti Cioè, era un bot Ho visto dei tipi nella montagna là Ah sì, sì L'ho visto anche io Lo stanno costruendo Fatta che No, perché? Anche là raga Sì, sì Colpito, colpito, colpito 21 23 Sempre blu questo Oh Oh, 29 Discuto 23 Ancora Avete L'agenzia Col Barret 21 E' bianco E' raga E' bianco L'agenzia Col Barret Oh, ma l'ho ammazzato Occhio Non lo vedo E' dietro E' dietro E' c'è C'è la minigun Ah, l'ho ammazzato Voglio, sta arrivando io Vai aiutare Stefano Io vado a salvare Mi vedo Mi vedo Guarda che sono anche qua Anche qua Mi sto curando Mi sto curando E' una paura di vita C'è un 24 colpi No, no Vai via Oh, raga E' qua E' qua E' la moscherina No, dai Ma non ho neanche Mets Porca miseria Abbiamo perso Non ho neanche materiali Né niente Vieni giù Vai 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 Ciao i Medici Ma se mi prendete la scheda Mi potete rialimare No Ma va a cagare Non l'ho preso Manco mezza volta Oh, raga Io ho 7 colpi A R Se mi beccano Sono morto Te li do io Ste Oh, io ce l'ho qua Ce l'ho qua Ste Oh, raga Venite che ti stavo facendo lo sparabende Eh, giù No No No, dai In 40 Ciao Ciao Eh, niente raga Partita tosta Eh, ciao Cazzo voi andiamo a Borgo A noi questa volta Ce la faremo ragazzi Lo faremo solo per voi Sarà che quando metto sta skin Mi porta una sfiga, oh Io vedo da gente Io ho già una terra Vado andi da terra io Dove sei? No Porto tale che è mongolo di merda Vedi ti va a prendere Eh, voglio spassare col piccolo C'è una granata Ma capottato Arriva il suo compagno Di quello che ho procedito Ma secondo me Sti qua Sono dei bot Oh, spara Tattico Oh, c'era l'altro Morto No, dai No, dai No, dai No, dai No, dai No, dai A Borgo Qui Ucciso Ucciso Era da solo Se l'ha mortato al primo colpo Forreste Oh, 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 la, 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 la Where is Giovanni che ti spara Ma veramente Sì, hanno distrutto un albero Cioè, sono un tipo Cioè, sono un cosa Un tipo Eh, eliminato io però Io? Dammene una A me, dammene una A me Io non sono Oh, parola Ma da dove? Eccolo Allora di qua 27 Uuuh, che kill Sei un grande coach Sei un grande coach Che kill ragazzi È qua, qua, qua Sì È dappola È morto? Guarda qui C'è No, è là Grandi Sì Sì, giochi È eliminato con fucile Sì Da qui Fate cadere tutto Oh, lo sento da dietro Oh, lo sento da dietro Un pozzo da dietro Oh, mi ha ammazzato Sono i due Ma, strutale Eh, ma anche mi ha ammazzato il tutto Ucciso Era che mi sono Ha fatto la tua giurita Sì Sì Grazie Io mi prendo Sono il bar Se non scrivi Sì Sì Ecco lo Sì 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 Ok Bonnet Io sento della gente, è vero Sopra, sopra, sopra Giò, chiudi qua per favore Giò Giò, ho scudone 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 No, no, no È sopra È sotto Giò, è qua È qua Maledetto Io ho lo scarmitico Dai, raga No, ho sbagliato Vabbè Se mancano Ho quattro Tre, tre ne mancano Sì Eh no, siamo in tre Siamo in sette in tutto Noi siamo in tre Ne mancano quattro Oh, qua, 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 qua Qua, qua, gente Mi sparano Vai Piega il rampino Io, io Dentro la casa Dentro la casa Sì, sono due sotto qua Mi nota Tutto va tolto A terra uno No, non ce l'ho Non ce l'ho È qui, qui Ha dietro te Ho visto Te Sono tre pesci È impossibile No, dai, vai via Oh, no, ma non siete Lo scudone Adesso ho ammazzato a Luca E lì da Luca Guarda che arriva Stai, 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 stai Alla tua sinistra Visto E uno dietro Oh, mi vuoi dare Sto cacchio di rampino No Arrivano, arrivano Purtroppo Purtroppo Direct Instagram Una foto Dove si vede Che ha condiviso il video In tre gruppi Whatsapp I primi tre Saranno i prossimi Miei compagni Di avventura Nella Fortnite Team Squad Con Coach Marra Per questo video è tutto Bella ragazzi Un saluto Alla prossima Alla prossima